Tempo di risultati del weekend calcistico appena concluso, partiamo come sempre dal campionato di eccellenza. Girone di ritorno, quattordicesima giornata. Albino Gandino Arcellasco 2-0, Mapello Cernusco Merate 2-1, Sondrio Brugherio 3-0, Luciano Manara Caprino 0-4, Vimercateso Reno Cisanese 3-1, Casatese Rogoredoni Bionogiono 0-2, Trevigliese Verdello 1-1, Mariano Calcio Villa Dalmè 0-0. Il Sondrio è sempre primo in classifica con 65 punti. Campionato di promozione, quattordicesima di ritorno, Viberonchese Barzago 2-1, Casati Arcore Biassono 4-0, Pro Lissone Cinisello 0-2, Villa Colico Derviese 2-0, Speranza Grate Concorezzese 2-2, Ponte Lambrese Dipo Vimercatese 1-0, Real Milano Lissone 0-1, Costa Masnaga Menaggio 2-0. Da segnalare in classifica la Colico Derviese con 39 punti. Prima categoria, quattordicesima giornata di ritorno, Vedugio Arcadia Dolzago 1-0, Dubino Obrora 1-0, Besana Fortitudo Civate 0-2, Altabrianza Tavernerio Cornatese 3-1, Berbenno Cosio Valtellino 2-1, Mandello Missaglia 2-0, Grosio Olimpia Grenta 3-0, Calolzio Corte Olimpic Morbegno 0-1. In classifica al primo posto Altabrianza Tavernerio con 64 punti, 58 per Arcadia Dolzago, 57 Aurora, 47 Cosio Valtellino e Berbenno, 43 Calolzio Corte, 39 Olimpia Grenta e Olimpic Morbegno, 37 Missaglia, 34 Besana Fortitudo e Grosio, 30 punti Vedugio, 29 Cornatese, 27 Dubino, 24 Civate e 20 Mandello. Siamo in seconda categoria, la giornata è la terza di ritorno, Dongo Albosaggia Ponchiera 1-2, Tirannese Altolario 4-3, Victoria Chiavennese 0-3, Bormiese Cortenova 3-2, Bellagina Nuova Abrianza Sportiva 2-1, Ardenno Buglio Pontese 2-4, Talamonese Valchiavenna 3-2. La classifica in prima posizione Chiavennese con 56 punti, 54 Cortenova 46 Talamonese, 39 Albosaggia Ponchiera 38 Altolario, 37 Bormiese, 35 Tiranese e Pontese, 33 Bellagina, 32 Vittoria, 28 Valchiavenna, 26 Dongo, 24 Ardenno Buglio, 13 Nuova Brianza Sportiva. Infine la terza categoria si è giocata la prima giornata del girone di ritorno. Penta, Piateda, Berbenno 4-0, Valmasino, Delebio 1-0, Polisportiva Villa, Piantedo 0-0, Sondriese e Sondolo 2-2, Valmalenco, Livigno 2-1. In classifica prima posizione per Valmalenco, 44 punti, 34 Piantedo e Penta, Piateda, 30 Polisportiva Villa, 27 Delebio, 20 Valmasino, 17 Sondolo, 14 Livigno e Prata Calcio, 11 punti Sondriese e poi c'è il Berbenno che gioca fuori classifica. Grazie a tutti.